Ciao a tutti, sono andrea di scommesse.com e recensioni.com e prima di iniziare con i pronostici della quattordicesima giornata di serie A vi invito ad iscrivervi al nostro canale e a condividere il più possibile. In questo modo non perderete neanche un pronostico, una strategia o le nostre guide su Bookmaker con licenza di M. La scorsa settimana abbiamo azzeccato la schedina che avevamo proposto che era pagata 2,53 volte la posta, quindi è stato un ottimo risultato per noi. Adesso però passiamo alla schedina della quattordicesima giornata che comincia con Empoli-Fiorentina su cui ha impuntato x2. Viola che arrivano dall'ottima vittoria casalinga per 4-3 sul Milan. Empoli, riduce dalla sconfitta esterna per 2-1 contro il Verona. La Fiorentina in italiano sta giocando un buon calcio e si presenta con un Vlaovic in grande spolvero, quindi crediamo che non vada a perdere in questo derby toscano. La nostra bet va sulla doppia chance x2. Seconda partita, Juventus-Atalanta over 1,5. Big match di giornata insieme a Napoli-Lazio tra la Juve di Allegri che nelle ultime due giornate ha recuperato 5 punti alle capoliste Milan e Napoli grazie a due vittorie su Fiorentina-Lazio e l'ottima Atalanta di Gasp, riduce dal 5-2 sullo Spezia, ora quarta in classifica, a soli 3 punti dall'Inter. Dalle nostre analisi, in questa gara dovrebbero essere marcati almeno 2 gol, per questo mettiamo sullo Verona e mezzo. Terza partita, Venezia-Inter 2 L'Inter di Simone Zaghi arriva dalla grande sofferta vittoria interna per 3-2 sul Napoli, primo sconto diretto vinto dai nerazzurri in questo campionato, mentre Venezia è riduce dall'ottima vittoria esterna per 1-0 sul Bologna. Tenendo conto del divario delle due rose e del buon stato di forma dell'Inter, crediamo che Varello e compagni vadano a fare bottino pieno in laguna, quindi puntiamo sul defisso pagato ben 1,40 volte la posta su snai.it. Ultima partita di giornata, Milan-Sassuolo 1-X Rossoneri riduci dalla sconfitta esterna per 4-3 contro Fiorentina, neroverdi che arrivano dal pareggio per 2-2 contro il Cagliari. Con un punto nelle ultime due gare, in Milan di Pioli deve assolutamente tornare a fare risultati se vuole mantenersi in vetta la classifica. Il Sassuolo non è però un avversario facile e storicamente ha già fatto male diverse volte a Rossoneri. Dopo varie considerazioni abbiamo deciso di scommettere sulla doppia chance 1-X, ovvero vittoria-Milan o pareggio. Il moltiplicatore di questa schedina è 2,48 volte la posta e le quote sono offerte dal sito snai.it. Passiamo ora ai risultati esatti della 14esima giornata di Serie A. Cominciamo con Atalanta-Juventus, dove abbiamo pronosticato il 2-1 o 1-2, pagati 8,50 e 11 su snai. Seconda partita, Milan-Sassuolo, dove abbiamo pronosticato il 2-1 o 2-0, pagati 8,10 e 9,50 su maraton bet. Ultima partita, Napoli-Lazio, dove abbiamo pronosticato il 2-1 o 1-2, pagati 7,75 e 13 su euro bet. Prima di concludere il video, alcuni consigli extra per questa 14esima giornata di Serie A. Cominciamo con Cagliari-Salenitana, ovvero 1,5. A seguire Sampdoria-Verona, Under 4,5. Spezia-Bologna, ovvero 1,5. E Roma-Torino, ovvero 1,5. Bene, per oggi è tutto. In descrizione troverai il link alle pagine dei nostri pronostici e maggiori informazioni su snai. Ti invito ad iscriverti al nostro canale e a condividere il più possibile, per non perdere i prossimi pronostici sulla Serie A, ma anche strategie e scommesse tutorial per ripelever i depositi di denaro sui migliori siti di scommesse con licenza DM. Il video è finito, buone scommesse!